Domenica 17 ottobre si vota per l'elezione di un cittadino extra comunitario con diritto di partecipazione al Consiglio Comunale. Le operazioni di voto si svolgeranno esclusivamente domenica 17 dalle 7 alle 23. E' eletto consigliere aggiunto al Consiglio Comunale il candidato che ottiene per somma dei voti validi espressi nelle 10 sezioni elettorali il maggior numero di suffraggi. Il voto può essere espresso tracciando un segno con la matita fornita dall'ufficio elettorale sul nome o sulla casella posta in corrispondenza del nome del candidato prescelto. Per accedere ai seggi e per poter votare è obbligatorio l'uso della mascherina ed il possesso del certificato elettorale e di un documento di riconoscimento.